Pronti che riscatta e questa volta il segnale è valido. Practical DVM ovviamente la battistrada, ma subito dal secondo nastro Peton SB, Paris Yambar e palanca protesa in terza ruota. Entrando in piegata, Practical DVM all'avanguardia in seconda posizione, passa Peton SB avanti a Pino B, poi Prua S, quindi Paris Yambar con all'interno Preziosus, retrocede in coda, palanca. Peton SB in progressione a lato di Practical DVM, sta per passare Peton SB, 35.9, 4.60, 32 gli ultimi 400, media di 1.18. E' passato Peton SB in seconda, Practical DVM, in terza Pino B, in quarta la favorita Prua S. Sposta Prua S trascinandosi Paris Yambar, a sua volta pedinata in scia da palanca. Prua S passa avanti a Peton SB. Prua S è nuova leader, 34 il secondo quarto, 1.06.3 per i 4.860, alla media di 1.17.1. Prua S che fa andatura avanti a Peton SB, poi all'esterno Paris Yambar, quindi Practical DVM, poi Preziosus, avanti a Pino B e palanca sempre a largo. Penultima piegata, con Prua S in vantaggio, seconda all'esterno Paris Yambar, Prua S su Paris Yambar, Peton SB in corda, poi Practical DVM con lato Preziosus, 34 il secondo quarto, 35 la terza frazione, 16.8 la media. Vantaggio Prua S su Paris Yambar, che ha provato ad affattarsi sulla leader. Prua S avanti a Paris Yambar, poi Peton SB, Preziosus, Practical DVM, palanca e Pino B. Lungo l'arco della piegata conclusiva, Prua S avanti a Paris Yambar, in terza posizione, passa Preziosus. Prua S, Paris Yambar, Preziosus, palanca, Pino B, Peton SB e Practical DVM. Razione completata in 29.1, ingresso addirittura con Prua S in vantaggio al suo inseguimento. Paris Yambar, poi Preziosus e all'arco di tutti Pino B. Prua S va a concludere, mentre per il secondo posto Paris Yambar e Pino B sono in linea, avendo vicino anche palanca. 29.9 il quarto conclusivo, 2.35.8 il tempo totale per la favorita Prua S, 1.37 al totalizzatore, che va ad imporsi con facilità lasciandosi alle spalle il numero 5 di Paris Yambar e il 2 di Pino B, in lotta ma nell'ordine per il secondo posto, poi il 6 di palanca e il 7 di Preziosus. 352, la sequenza numerica del Pino Calcara.